Ciao, sono Filippo Agostino, CEO e co-founder di 2ire. 2ire produce un dispositivo che si connette a tutti i veicoli, sia macchine sia motorini, e li rende controllabili da applicazione. Il prodotto che noi sviluppiamo è un prodotto IoT, è un strumento plug and play che si attacca alla porta obiettivi del veicolo che sta sotto il volante e permette quindi di trasformare tutti i veicoli in macchine connessi. Questo prodotto si installa in meno di 10 secondi e riesce sia ad attivare le funzionalità attive sia quelle passive, quindi riusciamo ad interagire con il veicolo, quindi apertura porte, chiusura porte, blocco motore e anche a leggere tutti i parametri delle centraline dei veicoli. I nostri area adopter sono le società di noleggio. Perché le società di noleggio? Perché abbiamo notato che c'erano diversi problemi tra cui ovviamente la fila alla stazione, la perdita di tempo con l'operatore e la perdita di tempo per la consegna e la riconsegna delle chiavi e del veicolo stesso. Invece con il nostro device che è plug and play e che quindi richiede solo 10 secondi di installazione noi possiamo connettere tutti i veicoli del parco, del parco macchine dell'autonoleggio e in quel modo trasformare l'esperienza del noleggio in un'esperienza simile al car sharing. In questo modo io posso arrivare all'aereo volto alla stazione, andare direttamente non più alla stazione di noleggio ma andare direttamente al veicolo, accedere al veicolo tramite app e poi iniziare il noleggio e concluderlo allora che voglio perché ovviamente la macchina è una macchina praticamente in sharing. Quindi in questo modo noi possiamo trasformare il noleggio di un veicolo in noleggio di una car to go o un enjoy diciamo. All'interno dell'azienda mi occupo della parte di sviluppo del business e la nostra attività si sviluppa prevalentemente sull'hardware quindi sull'IoT perché quello ci permette poi di comunicare con il veicolo stesso perché senza il veicolo ok che tra 3-4 anni tutti i veicoli saranno connessi ma senza il nostro dispositivo non avremmo modo di sfruttare il veicolo per offrire diversi servizi tra quali il noleggio, self service, il cash sharing e così via. Le tipologie di clientela su cui diciamo a cui offriamo il servizio sono clientela diciamo business, sono delle aziende quindi noi siamo più B2B e offriamo la soluzione a società di noleggio, a società che fanno car sharing, scooter sharing e per soluzioni che comprendono analisi di dati avanzati diciamo telemetria avanzata. Diciamo che per una startup lavorare con l'IoT ha dei benefici perché comunque si lavora su qualcosa di fisico quindi si lavora su un prodotto che può essere industrializzato che può essere venduto e poi da cui puoi ricavare margine oltre che dal servizio poi software che vendi come SAS per esempio ma ovviamente una startup che lavora con l'hardware diciamo a dei ritmi più lenti rispetto a una società che può lavorare solo con il software perché tutta quanta la prototipazione e i test e una volta mandare in fabbrica e aspettare che arriva il prodotto per testarlo e tutto il resto e l'approvvigionamento di componenti e tutto questo comunque diciamo aumenta l'attesa, aumenta il tempo di produzione quindi diciamo che rallenta un po' non è facile fare hardware e servono anche parecchi soldi per fare una bella produzione dei V-Vatch con il magazzino e tutto il resto. Grazie 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 Grazie